amici di no al cinema bentornati sul canale per una nuova recensione senza spoiler e che recensione senza spoiler siete tutti qui me lo immagino che mi aspettate al varco quanto vi ho rotto le scatole negli ultimi mesi con twister il film del 1996 diretto da yann de bont che abbiamo analizzato e discusso anche in relazione al mio vissuto ieri nella puntata esso dedicata di inno alla nostalgia che linko alla fine di questo video recuperate questa bella diretta se non l'avete vista ieri sera o nelle ultime ore quanto vi ho rotto le scatole con twister che cos'è il reboot il sequel di twister ne parliamo più avanti durante questa recensione la mia passione il mio affetto ma anche la mia stima vera sentita oggettiva nei confronti del film twister del 1996 hanno reso il film diretto da lee isaac chang appunto twister su uno dei più attesi se non il più atteso dell'estate per quanto mi riguarda e non sto scherzando perché va bene che c'è di mezzo un po di cuore ma aspettavo gloria questo film c'erano tanti elementi che mi incuriosivano a partire da un cast di volti relativamente anche nuovi nella mia esperienza di spettatore ma che mi hanno convinto fin da subito c'era la curiosità di vedere come questo plot e questo concept molto semplice potesse essere calato nella hollywood del 2024 i trailer mi avevano convinto le immagini diffuse nel corso degli ultimi mesi altrettanto tutto faceva sperare per il meglio partiamo un attimo da lontano c'era invece da parte di altri scetticismo a partire dal nome del regista del progetto quel lee isaac chang che è di origini sudcoreane ma che è cresciuto negli stati uniti fra atlanta e lincoln nella zona rurale dell'arkansas vi dice niente questo tipo di location che dal 2007 al 2012 dirige dopo essersi laureato all'università di cinema dello juta tre film che però diciamocelo passano inosservati e sono poco più appunto che opere di gioventù per poi trovare successo molti anni dopo quasi un decennio dopo nel 2020 grazie al suo minari o minari non mi ricordo come si pronuncia film che ottiene un buon successo e che soprattutto arriva agli oscar vincendo anche una statuetta per la migliore attrice non protagonista quindi un percorso lungo un percorso che sembrava anche essersi interrotto quello dal regista di lee isaac chang che nel 2020 trova il successo però con un film molto piccolo intimista drammatico quasi da sundance come si dice in questi casi che cosa fa subito dopo si ritrova a dirigere twisters non diciamo il percorso più lineare e logico a cui si potrebbe pensare ma appunto guardando la sua biografia questo suo essere cresciuto nel nell'arkansas rurale nel suo avere 45 anni quindi aver vissuto appieno forse anche più di me gli anni 90 come cinefilo appassionato magari anche di un certo cinema hollywoodiano apparentemente lo hanno reso un nome un profilo in grado comunque è papabile per affrontare la realizzazione di twisters e da questi dubbi partiamo perché vanno presi e cestinati con la massima determinazione lee isaac chang dirige questo film alla perfezione per quanto mi riguarda e da qui parto per dire che se stasera mi vedete sorridente è perché sono un bimbo felice twisters mi ha soddisfatto in pieno è tutto quello che speravo che questo film fosse tranne una cosa di cui discuteremo dopo ieri sera parlavo di twister il film del 96 come di uno dei titoli emblema per quanto mi riguardava di una hollywood post rivoluzione digitale d'inizio anni 90 che con poco riusciva a fare tanto e mi auguravo che twisters potesse imparare dal suo predecessore per calare questa mentalità ormai persa da tempo nella hollywood sempre più alla ricerca di franchise da sfruttare sul lungo termine e di baracconate spesso senza senso troppo lunghe troppo dilatate speravo che questo nuovo capitolo potesse raccogliere quell'eredità e farla sua per quanto mi riguarda c'è riuscito twisters pienamente il film nel durante le circa due ore di visione poco meno un'ora e 55 di visione ho assaporato quello che posso descrivere come un vero e proprio fin degli anni 90 a più riprese mi sono detto porca miseria ma mi sembra veramente di essere tornato indietro nel tempo e ovviamente per qualcuno questo rappresenterà un problema per quanto mi riguarda il primo grande pregio di twisters e non si parla solo in nome di una nostalgia dei bei tempi che furono no ma siccome la trama sia di twister che di twisters è tra le più sceme alle quali si possa pensare innanzitutto il film non strafa non strafa nelle scene d'azione non strafa con gli effetti speciali non crea situazioni eccessivamente stupide sopra le righe strabordanti e come il suo predecessore fa una cosa molto importante si ricorda che al centro di ogni storia devono esserci i personaggi ora ovviamente anche per motivi di cuore non posso dire che i nuovi personaggi mi siano rimasti almeno per ora dopo una prima visione a caldo nel cuore come protagonisti di twister ma porca miseria se lì Isaac Chang riesce a creare a mettere insieme un cast e a gestirlo al meglio per raccontare una storia di caccia ai tornadi che nella sua semplicità tornado scusatemi che però nella sua semplicità è assolutamente eccellente divertente incalzante e anche emozionante tra l'altro la sceneggiatura è scritta da Mark L. Smith che ha scritto tra gli altri Vacancy slasher di un bel po' di anni fa ma quasi vent'anni fa a maledizione con protagonisti Luke Wilson e Kate Baking ha scritto The Revenant di Iñárritu e poi ha trovato una collaborazione recentemente nei due ultimi film da regista di George Clooney The Midnight Sky e The Boys in the Boat appunto con il buon George internazionale quindi non l'ultimo degli scemi ha scritto anche Overlord che per quanto mi riguarda è un sci-fi horror niente male anche per quanto riguarda l'ambientazione della seconda guerra mondiale che mi ha ispirato non poco parlavamo del cast e torniamo sul cast che per quanto mi riguarda è uno dei punti di forza principali di questo film partendo da Daisy Edgar Jones che io avevo già visto nel suo ruolo cinematografico e più importante finora quello della protagonista del film La Ragazza della Palude finché non mi è piaciuto per niente grande polpettone da sciure del sabato pomeriggio ma che ha avuto un certo successo perché è tratto da un romanzo molto molto celebre soprattutto negli Stati Uniti lei era brava per carità ma diciamo che Twisters è il primo banco di prova vero per quanto mi riguarda tra me e questa attrice che ho trovato fantastica è veramente naturale è assolutamente ha una leggerezza veramente coinvolgente che ti fa subito entrare in sintonia col personaggio è anche una bella ragazza che non guasta mai e al suo fianco ha per quanto mi riguarda uno dei volti nuovi l'ho già detto anche recentemente più importante e sempre più di riferimento della nuova Hollywood quel Glenn Powell che tra Top Gun Maverick e Hitman e Richard Linklater negli ultimi anni passando per tutti tranne tre e la commedia che lo ha reso una celebrità insieme a Sidney Sweeney si dimostra sempre di più attore versatile ma anche intelligente passando appunto da ruoli in filmoni più commerciali a roba più autoriale come appunto le sue varie perché ci aveva già lavorato in passato collaborazioni con Richard Linklater i due insieme sullo schermo fanno scintille sono veramente una coppia di protagonisti fantastici e intorno a loro si muovono altri attori caratteristi molto molto interessanti c'è la veterana Mora Tierney che per molti si ricorderanno per iar io la collego più a Californication ma che recentemente ha lavorato anche in The Iron Claw il film dedicato al wrestling con Zac Efron nel ruolo della madre di famiglia della famiglia protagonista c'è Anthony Ramos che diciamo è diventato una star mondiale grazie al suo ruolo a teatro in Hamilton di Lin-Manuel Miranda e sempre grazie a Lin-Manuel Miranda ha avuto un ruolo da protagonista al cinema nel musical tra l'altro da me molto apprezzato in The Heights non lo sapevo c'è il nostro nuovo Superman in Twisters c'è David Connensweth in un ruolo anche piuttosto interessante dalle diverse sfaccettature poi ci sono altri bellissimi volti di caratteristi più o meno noti che appunto arricchiscono un cast che è veramente il cuore pulsante del film si ripete la bella formula che per me rendeva unico e interessante il Twister del 96 personaggi semplici a tratti o spesso stereotipati ma che però hanno il loro ruolo specifico in una trama molto semplice e riescono essendo scritti e recitati bene ad arricchirla questa trama molto semplice cos'altro c'è ad arricchire questa trama essenziale che a più riprese va detto non dico ricalca ma si rifà al primo film beh innanzitutto la colonna sonora che ha due facce da una parte abbiamo la composizione diciamo d'accompagnamento di Benjamin Walfish che è un nome che va sempre più tenuto d'occhio perché ora è un po' di anni che lavora e comunque ha già scritto delle partiture molto interessanti l'altra faccia della colonna sonora è rappresentata da questo album di canzoni scritte appositamente per il film che comunque diciamo molti artisti hanno prestato a Twister's in questi giorni avevo visto su Instagram e su YouTube tanta pubblicità per l'album di Twister's in vinile in cd in tutti i formati possibili adesso capisco il perché al contrario del primo film dove comunque c'erano tante canzoni però di repertorio il film oltre alla colonna sonora diciamo strumentale è ricchissimo di canzoni che suonano sia a livello diegetico che a livello extra diegetico a volte le sentiamo dalla radio le sentiamo cantare dai protagonisti altre sono semplicemente di accompagnamento sono tante forse anche troppe ma non stonano ecco non è che diventa un videoclip all'improvviso di tutte queste canzoni ma è palese che quelle canzoni sono lì belle in primo piano per essere ascoltate anche per motivi commerciali ma essendo diciamo di tono country di tono rurale non sfigurano in un film che di quella ambientazione fa una sua caratteristica c'è poi la fotografia del veterano Dan Mindell che attenzione dopo poco che guardavo film ne sono reso conto durante a fine primo tempo o ne ho ricevuto conferma gira in pellicola non lo sapevo ma Twisters è un film girato in pellicola e si vede infatti la resa visiva aiuta molto a sentire vibes da film anni 90 infatti io ho guardato questo film e mi sono risentito ricatapultato mi sono sentito ricatapultato scusatemi negli anni 90 anche perché con l'aiuto di Dan Mindell e il suo lavoro alla fotografia e i movimenti di macchina lì Isaac Chang dimostra di aver studiato e probabilmente amato il lavoro del mitico Jan de Bont regista di Twister nel corso degli anni non so se ha fatto i compiti solo per girare Twisters la sensazione è che ci sia una passione di fondo importante per quel tipo di cinema tanti movimenti di macchina tanti concept visivi a livello di inquadrature ricordano il film del 96 mi sono sentito veramente come se fossi tornato a casa da un certo punto di vista tranne che per una cosa quel piccolo neo che ho trovato al film che non necessariamente è un male ma forse diciamo da quel punto di vista del film ho un po' disatteso le mie aspettative ovvero il motivo appunto di questa parziale delusione i collegamenti con il primo film sono praticamente nulli in primis quello che spesso e volentieri in molte live negli ultimi mesi ho sbandierato perché ne avevo letto a più riprese su internet si è rivelato un pazzo non ve lo dico di cosa sto parlando ma diciamo che ci sono rimasto un po' male anche perché a un certo punto il film ti porta a pensare che un certo tipo di collegamento col passato di twister possa esistere di fatto non vi faccio spoiler perché si vede anche nel trailer l'unico vero collegamento con il primo film è la presenza del macchinario dorothy in una delle prime sequenze appunto di twisters un male non necessariamente diciamo che anche coraggiosamente si è deciso di non percorrere fino in fondo la strada del legacy sequel cosa che va di moda tantissimo hollywood in questi anni io un lacrimuccio in più l'avrei voluta versare ma lo prendo anche così com'è questo twisters anche perché andando a chiudere come vi dicevo twisters mi ha intrattenuto mi ha messo completamente a mio agio e mi ha regalato l'esperienza che proprio ieri sera appunto mi auspicavo di avere quella di riprovare le sensazioni che da ragazzino provavo quando guardavo i film della hollywood anni 90 quella hollywood che cercava di reinventarsi e di vivere anche di una vita e di una natura nuova all'indomani della rivoluzione digitale introdotta prepotentemente dal Jurassic Park di Steven Spielberg del 1993 ma dove ancora c'era attenzione alla scrittura di personaggi semplicissimi ma efficaci recitati da un cast di caratteristiche o di nomi comunque conosciuti ricordiamoci che c'era un futuro premio Oscar, Ellen Hunt tra i protagonisti gestiti alla perfezione da un regista che sapeva il fatto suo dove Jan de Bont all'epoca si era già dimostrato un maestro dell'action col suo film da esordio dietro la macchina da presa da regista ovvero Speed con Keanu Reeves e Sandra Bullock qui lì Isaac Chung spazza via tutto lo scetticismo che si portava dietro l'etichetta come è possibile che il regista di Minari sia il regista di Twisters si dimostra un bravo regista in generale a livello cinematografico ma anche un regista capace di produrre e dirigere un blockbuster degno di questo nome Twisters diverte, scorre che è una meraviglia mi ha riportato a casa, mi ha fatto sentire negli anni 90 e rispetto a tutti i punti di forza che avevo trovato in Twister nel 1996 e che ritrovo ancora oggi mentre quando decido di riguardarlo a casa cosa che è successa sempre più spesso soprattutto negli ultimi anni questo tipo di esperienza nostalgica ma comunque con un suo carattere deciso ben radicato nel presente Twisters mi ha regalato e per questo sono contentissimo di averlo visto e prossimamente mi sa che tornerò anche a vederlo tra l'altro il film l'ho visto in originale perché la proiezione in originale aveva l'orario più comodo per la mia vecchiaia e quindi ho ancora di più potuto assaporare la bravura di tutto il cast veramente è una di quelle esperienze che senza pensare a quando arriva il prossimo capitolo ma quanto sono stati bravi a scrivere questi barbatrucchi nel Cinegiatore è proprio stata un'esperienza rilassata e rilassante del godersi semplicemente un blockbuster che in due ore non ha molte pretese se non quella di intrattenere con spettacolo e bei personaggi all'interno di una trama semplice, semplicissima che oggigiorno è veramente paradossalmente anche da un certo punto di vista una boccata d'aria in una Hollywood sempre più artificiosa bolsa e spesso ridondante, eccessiva anche inutilmente Twisters è da oggi nelle sale, oggi 17 luglio nelle sale italiane uscirà nel weekend negli Stati Uniti io mi auguro che possa trovare il favore del pubblico anche se soprattutto in Italia sappiamo che è un momento un po' delicato e anche visto il fatto che la prossima settimana arriva in tutto il mondo Deadpool e Wolverine avrà insomma qualche gatta da appelare purtroppo il suo budget è alto, è dichiarato su 200 milioni un po' mi fa paura questo costo decisamente alto non credo che, io me lo auguro ma non credo che la strada verso il successo di Twisters sia così in discesa mi auguro di sbagliarmi e che il film possa ottenere un risultato soddisfacente non tanto perché spero necessariamente nella produzione di un sequel che comunque ci starebbe benissimo ma perché appunto vorrei che Hollywood sempre più spesso, sempre in maniera lungimirante e intelligente possa ripartire nel trovare una nuova identità della quale ha sempre più bisogno da questo tipo di prodotti semplici, tranquilli e rilassati fatemi sapere la vostra se avete già visto il film in queste ore se lo vedrete nei prossimi giorni nei commenti sotto a questo video ci sta che domani sera, giovedì 18 luglio si faccia una bella live se qualcuno degli abbonati ha voglia di fare due chiacchiere in libertà magari un bel Q&A parliamo anche con loro di Twisters perché so che molti o almeno qualcuno di loro stasera lo ha visto in sala parliamo del più e del meno sono uscite alcune notizie interessanti nelle ultime ore restate sintonizzati per conoscere tutte le novità sulla programmazione di Inno al Cinema questa settimana così così dalla prossima fino alla prepartenza per Venezia ci sarà tanta tanta roba in arrivo due rubriche una già presente sul canale Il Cinema D di un nuovo regista in questo caso una nuova nuovissima rubrica un nuovo format che esordirà nelle prossime settimane sul canale recensioni varie ed eventuali la prossima settimana l'abbiamo detto arriva Deadpool e Wolverine uno dei film più attesi dell'estate quindi ce ne saranno di cose da dire faremo una recensione senza spoiler probabilmente la settimana dopo il movie talk show per parlarne con spoiler restate sintonizzati quindi se non siete iscritti in Inno al Cinema iscrivetevi al canale attivate la campanella delle notifiche per sapere quando tutti i nuovi contenuti arrivano su questi lì seguite la nostra pagina Facebook il nostro profilo Instagram e se volete il mio profilo di Instagram privato michelin85 per essere aggiornato su tutte le comunicazioni legate al canale e non solo più siamo meglio è quindi condividetelo al cinema con i vostri migliori nemici e i vostri peggiori amici come sono stato bene stasera in sala mi è sembrato di tornare l'undicenne che ero quando ho visto Twister come vi ho raccontato giusto ieri sera viva il tornado quindi viva Twisters un pensiero a chi non c'è più del caso del primo film in primis Bill Paxton e Philip Seymour Hoffman due attori che ho adorato da sempre adorerò per sempre quanta nostalgia nel vedere Twisters un film fresco ma col cuore radicato in un passato nel quale mi sento a casa andate a vedere Twisters fatemi sapere la vostra un saluto e alla prossima